Buongiorno e benvenuti alla zuppa del 26 gennaio del 2018. Allora, se volete sentire sulla tragedia che è avvenuta ieri, quando un treno deraglia e muoiono tre donne che vanno a lavorare, che si sono svegliate alle 5 di mattina, poco conterebbe ovviamente se queste donne fossero andate a fare shopping per quanto mi riguarda, ma comunque muoiono tre donne che francamente volevano soltanto lavorare, insomma quella è una grande tragedia sulla quale c'è poco da discutere. Punto. Sono morte tre persone e 250 si sono trovate in una condizione che io non augurerei a nessuno, cioè trovarsi in un treno in cui due o tre carrozze sono accartocciate e urla gente che muore sballottati, beh certo è una situazione drammatica. Però volevo dire, se voi vi aspettate dalla zuppa di porro, il commento fatta salva questa prima considerazione, il grandissimo rispetto per le vittime, per quelli che hanno sofferto i loro parenti, però se volete la zuppa di porro, cioè da questa rassegna stampa che da tre anni facciamo tutte le mattine insieme, perché i vostri commenti, i vostri like contano, ma alla fine sono io che ci metto la faccia, come si suol dire, se voi volete la zuppa di porro dei giornali di oggi c'è da piangere, non per la tragedia, ma per i luoghi comuni e per le cazzate che noi giornalisti riusciamo a tirar fuori. Ieri avrei potuto fare il palinsesto delle robe che oggi i giornali avrebbero scritto. È colpa dell'alta velocità, è colpa della politica, è colpa dei tagli alla manutenzione, è colpa dell'Europa, è colpa delle privatizzazioni selvagge, è colpa di Monti che ha fatto i tagli alla regione Lombardia, è colpa di Berlusconi perché vuole fare il ponte sullo stretto e non vuole occuparsi delle piccole tratte locali, è colpa della sinistra perché la loro irresponsabilità ha portato al sindacalismo di non essere in grado di manutenere le nostre ferrovie locali. Ecco, sciacalli, tutti sciacalli e se mi permettete sciacallo anche, scusatemi, lo dico con il rispetto che dovrebbe meritare un vescovo, anche Nunzio Galantino che dice se si toglie soldi alla manutenzione c'è qualcuno che ci rimette la pelle. Allora, Nunzio Galantino, chi le ha tolti i soldi alla manutenzione? Caro vescovo, caro eccellenza, sua santità o come volete che la chiami, chi le ha tolti faccia il nome e cognome, lei c'è un nome e un cognome di una persona che ha tolto soldi alla manutenzione e quindi di fatto è responsabile oggettivo della morte di quelle tre persone, perché se lei ce l'ha questo nome ce lo faccia e lo mettiamo in galera o comunque i magistrati lo metteranno in galera. Oggi il pezzo migliore lo ha fatto il Foglio, si chiama Tenete gli sciacalli lontani da quel treno e ha perfettamente ragione. Non c'è Salvini che dica hanno tolto i soldi al nord, non c'è Doninelli che dice rispondendo a Sala che è colpa e Sala si dovrebbe vergognare e non c'è Sala il sindaco di Milano che dice che è colpa del ponte sullo stretto, capito? I politici fanno il loro mestiere bestiale in questi casi. Oggi io penso se uno avesse fatto, avesse un ruolo politico, oggi, sapete cosa? Zitto, muto, muto, zitto, 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 ma neanche le condoglianze, zitto. Invece no, i politici hanno fatto il loro mestiere, i sacerdoti, grandi eminenze hanno fatto il loro mestiere, e i giornalisti, il loro. Quello di oggi è straordinario perché la cosa più semplice è il filo rosso che la disuguaglianza porta alla morte e quindi siccome ci sono i ricchi che vanno sull'alta velocità, devono morire i poveri sui pendolari. È una stronzata, oggi lo schifo è benissimo il foglio, i pendolari sono tanti, sono 5 milioni e il fatto che i treni pendolari in grande parte d'Italia facciano schifo è fuori da ogni dubbio. Quella linea tra Cremona e Pioltello e Milano-Garibaldi l'ho fatta, fa schifo, come ho fatto tante volte la Roma-Lido per andare a Freggeno, per andare in altri posti vicino a Roma. Io lo faccio per, diciamo, da lusso, ma chi lo deve fare tutte le mattine per studiare o lavorare fanno cagare, è fuori di dubbio che facciano schifo queste. Ma mettere insieme, come fa Di Vico, il fatto che una linea faccia schifo nella sua manutenzione al fatto che ieri ci siano tre morti, beh, scusate, c'è una differenza. Il fatto di dire che non si facciano investimenti quando le ferrovie dello Stato ha programmato 94 miliardi di investimenti, di cui 75 miliardi nelle infrastrutture, vuol dire che c'è qualche cosa, qualche pregiudizio che noi forse abbiamo, c'è qualche responsabilità, esiste una responsabilità, a parte che vedremo quali saranno esattamente i motivi del ragliamento, perché oggi non è chiaro se sono quei 23 cm dei binari, anche se tutti lo danno per acquisito. Quando ci saranno responsabilità? Perfetto, sbattiamo in galera le persone che sono responsabili. In galera, hanno ucciso tre persone, sono responsabili, ma oggi dare la responsabilità generica a tutto, vuol dire non dare responsabilità a nessuno. Comunque, sì, ha ragione Rita, proviamo ad andare, io ho citato Roma e ho citato Milano, ma proviamo ad andare in Calabria, oggi qualcuno lo racconta, sì, la Nettuna Roma è quella che dicevo io, proviamo ad andare a vedere in Sicilia quello che succede, mi sembra che durante la campagna elettorale siciliana, come al solito, i politici hanno detto che dovrebbe migliorare quel tratto, chissà se sono riusciti a farlo. Insomma, diciamo la verità, non funziona al livello che dovrebbe il pendolarismo, però da questo a dire che i ricchi dell'alto velocità creano i poveri del pendolarismo, non è così, come non è così il fatto che in Italia, come vogliono far pensare i sindacati, lo hanno fatto ieri a 105 Matrix, sia un grande problema la sicurezza dei treni. No, no, mentre ieri noi abbiamo fatto, abbiamo celebrato questa specie di rito, di liturgia della morte drammatica di tre persone, ogni giorno che Dio comanda, ogni giorno qua in terra, ci sono 15 morti sulle strade, 15, va bene? Allora, l'Italia è il paese che ha meno incidenti ferroviari in Europa, non vi piace questa zuppa? me ne fotto, chiaro? Me ne frego, perché almeno qui voglio dire quello che mi pare, la maschera del buon giornalista che deve spiegare all'alta velocità all'Europa, non me ne frega, niente, è un dramma, è un disastro, però oggi legge i giornali, ha ragione il foglio, gli sciacalli, gli sciacalli al lavoro. Andiamo avanti, l'altra cosa straordinaria della giornata, a leggere il Corriere della Sera, ma anche altri giornali, mi sembra anche il fatto, è che la lista liberi e uguali è tutto tranne che libera e uguale, chiaro? Liberi e uguali lo scrivono soltanto nei loro manifesti, nella realtà cosa succede? che ci sono quattro donne che saranno capoliste in dodici circoscrizioni, che è il massimo consentito della legge, dodici circoscrizioni, c'erano le manifestazioni contro queste pluricandidature, la sinistra diceva orrenda la pluricandidatura e sapete chi è candidata in dodici circoscrizioni diverse? La signora, l'onorevole Boldrini, presidente della Camera, io non ce l'ho con la Boldrini, ma ce l'ho contro l'ipocrisia, tu candidandoti, come dice il Corriere della Sera oggi, sempre che sia vero, in dodici circoscrizioni, cosa fai? Poi alla fine sceglierai quale è la circoscrizione in cui sei finalmente riuscito ad eleggere e ti sei portata sicuramente a casa l'elezione, perché non c'è il rischio che tu non venga eletto, però nel frattempo cosa hai fatto? Hai impedito ad altre donne di occupare quello spazio e quindi hai limitato esattamente quelle quote rosa che tu hai preteso nella legge, perché se tu ti candidi in dodici circoscrizioni, cosa succede amici miei? Che in dodici circoscrizioni il numero uno sarà una donna, ma è la stessa, il che vuol dire che una donna è candidata in dodici posti e le altre undici donne che si sarebbero potute candidare al posto suo, chi se ne frega. Bene, questa è la grande, gigantesca ipocrisia, le quote rosa, ma per gli altri. La legge fa schifo, ma o facciamo dodici circoscrizioni in cui si candida la Boldrini? Tra l'altro stanno litigando come degli animali, ovviamente io sono un animale, loro sono degli animali, tutti noi siamo degli esseri animali, sapete perché litigano e se ne è andato via la grande icona di Sinistra e Libertà per Bartolo, il sindaco di Lampedusa, il segno dell'immigrazione, il segno della nostra solidarietà e sapete per quale motivo? Beh, fantastico, perché l'hanno candidato a Bergamo, hanno candidato a Bergamo il sindaco di Lampedusa, il medico di Lampedusa, perché a Lampedusa dovevano mettere uno che veniva sicuramente eletto, io la trovo una cosa straordinaria, oh, non è che in Forza Italia, in Lega Lombarda che candida la Buongiorno, Buongiorno, io vorrei ricordare a quelli che ieri hanno detto, ma Porro, ma ce l'hai con la Buongiorno, non stai facendo una campagna? Certo, ma perché non lo sapete? Io faccio solo campagne, io qua me ne frego dell'imparzialità, io faccio solo campagne, a quella che ha fatto l'assistente, la portavoce di Fini, di fatto, e delle politiche di Fini, va bene, di Fini, allora io faccio una campagna, perché trovo ridicolo che questa fino a due anni fa ci diceva che la Lega era di razzisti schifosi e oggi si è candidata alla Lega, glielo ho detto anche a Salvini l'altro giorno in radio, io le faccio le campagne e me le sbatto, a chi non gli faccio le campagne? Peggio per lui, invece di versi la zuppa di Porro, si veda la Boldrini di Porro, che ne so, non insultate la Boldrini perché quello che è avvenuto ieri, cioè il fantoccio, vedete bisogna essere liberi di poter dire della Boldrini che è incredibile nella sua ipocrisia, se non gli si bruciano i fantocci, è chiaro? Se uno si mette a fare un fantoccio e lo brucia un falò con la faccia della Boldrini, io sapete che penso che sono dei cretini, dei cretini perché mi violano, a parte fare una cosa disgustosa, ma a me mi vincolano, mi devono rendere più calmo, io non voglio essere calmo sulle ipocrisie, ma se quelli mi bruciano il fantoccio, io devo dire che quelli sono dei cretini e lo sono e lo penso veramente e ci devono portare tutti quanti ad abbassare i toni, io invece non voglio abbassare i toni sull'ipocrisia della Boldrini, oggi sui giornali ne trovate di tutti i colori. Vabbè, Parisi si candida nel Lazio, diventa il candidato contro Sala, adesso diventa il candidato contro Zingaretti, boh, se il centrodestra ha trovato una persona per mettere d'accordo di tutti, bene, ma mi sembra che Pirozzi oggi, se su tutti i giornali, non si vuole candidare, casino anche nelle liste del PD, anche perché il PD aveva 380 seggi e ne deve portare a casa 200, quindi stanno litigando, è una lite di tutti contro tutti per trovare il posto di lavoro. Telecom, pare che, io non voglio parlare male degli investitori pubblicitari che ci pagano lo stipendio, tutti, però, voglio dire, voi avete capito che cosa fa Telecom, chi sono i manager di che Telecom, che intenzioni ci avvivono di, quali, io non ci ho capito niente, dovrebbero far funzionare i telefoni, boh, io non lo so, tutti questi cambi di management se servono ad azienda che era la migliore azienda tecnologica di telefonini quando fu lanciata dopo il Mondiale 90 d'Europa e mi sembra che si deve essere stata molto, ma molto incasinata. Favoloso oggi il pezzo di Sallusti, favoloso, perché oggi Sallusti prende per i fondelli i magistrati, verrà querelato, e nel prendere per i fondelli i magistrati dicendo che loro sono come spada, cioè danno le capocciate ai giornalisti, però su spada si fa un grande casino nazionale, mentre sui magistrati non si fa, Sallusti prende due casi, uno di un istituzionista di un giornale pavese che dice che c'era un magazzino che va a fuoco e dice che quello era tensionato dalla procura, una cosa di questo tipo, viene indagato per favoreggiamento. Lui stesso dice che c'è stato uno scambio di persone perché avevano scambiato per un altro, ma nonostante in primo grado lo abbiano ovviamente archiviato questo caso, perché dico ma scusa ma se hanno scambiato per un altro è chiaro che è archivato, il PM, che è quello che faceva la querela, ricorre in appello, dice tanto Sallusti non paga lui. Terzo caso, Travaglio, pensate un po' voi Sallusti che difende Travaglio, che dice che i magistrati l'hanno condannato a 150 mila euro, 150 mila euro, perché lui li ha criticati, forse duramente, troppo duramente, ricordatevi che Travaglio dice che io sguazzo nella merda questo e che prendo la paghetta, tant'è che tutti i cretini che girano su internet ancora dicono questa cosa, che io prendo la paghetta da Berluscoli, e questa cosa l'ha inventato Travaglio, l'ha inventato Travaglio, io non l'ho querelato, i magistrati invece per una cosa più o meno, secondo me neanche così forte, lo hanno querelato e hanno portato a casa 150 mila euro. Sallusti lo difende, dice ragazzi, ma qua questi magistrati devono smettere di intimidire i giornali che non possono scrivere, non possono criticarli, non possono rivelare, perché se no, ragazzi, facciamo veramente la Repubblica dei Magistrati. Comunque, ragazzi, per tutti i ragazzi amici, ragazzi, non so oggi perché mi viene così, io vi direi appuntamento come sempre, vabbè, come sempre questa sera a 105 Matrix, alle 19, e niente, se vi piace questo video condividetelo, che è l'unica forza che ho per dire le cose che voglio dire senza nessun timore e con il vostro affetto. Nicolaporro.it, troverete tante altre informazioni, un saluto e ci sentiamo questa sera, ciao! Grazie a tutti!